Mixarelli Benten, unisce e fondi i colori nella camera di fusione. Inventa nuovi colori con i mixarelli. Disegna il libro di Benten e con gli adesivi crea nuove storie. Mixarelli, fondono i colori, disegnano il divertimento. Scopri anche i mixarelli di Bakugan e dei Gormiti. Mixarelli, gli sfuma pennarelli. Solo da auguri preziosi.